Gentili telespettatori, buona giornata. Siamo nella trasmissione 8 e mezzo sulla 7, trasmissione condotta dalla giornalista Lilli Gruber e ospite anche Alessandro Sallusti, il direttore di Il Giornale.it. Indovinate di che cosa si parla, eh? Matteo Salvini, guarda caso. Quindi si parla della mini crisi politica aperta dal nuovo decreto legge, quello il decreto legge aperture. È mini crisi politica, realmente non aver votato assieme agli altri ministri per il decreto aperture realmente è una bella e buona crisi politica, su questo non c'è dubbio, che poi la si voglia sminuire, ma realmente è una crisi politica. I sondaggisti parlano di un Salvini alterato dalla continua perdita di voti a favore di Fratelli Italia, allora ha cercato di raddrizzare le cose, cercando di ottenere delle cose in più per poter dire io sto facendo delle cose giuste, mi ascoltano, se no se fosse solo per la sinistra qua sarebbe tutto chiuso. Però questa volta Draghi non lo ha ascoltato. Parecchie volte lo ha ascoltato, questa volta no. Questa volta Draghi non ha ceduto su nulla, anzi il decreto riapertura è in realtà con i ristoranti che sono chiusi all'interno sia a mezzogiorno che la sera, dove solo aperti all'esterno è realmente chiamarlo decreto riapertura e Giorgio Ameloni dice che chiamarlo così è un po' un eufemismo, insomma qui è peggio che con Conte. Ma Sallusti, ospite appunto, dice che non è stata accolta la richiesta di spostare di un'ora quel coprifuoco dalle 22 alle 23. Mario Draghi tiene a precisare che anche la Lega era d'accordo sul decreto riapertura dove non c'era lo spostamento dell'orario. Il segretario della Lega, dice Sallusti, può essere contemporaneamente di lotta e di governo e Draghi dovrebbe mettersi l'anima in pace? Fino a quanto può durare questo gioco di Salvini? Queste sono le domande che ha fatto Lilli Gruber, le tre domande. Salvini può essere governo e opposizione? Draghi deve capire che ormai è così? Salvini farà il bello e il cattivo tempo ogni settimana? Quanto può durare il gioco di Salvini? Queste le tre domande che fa Lilli Gruber ad Alessandro Sallusti. La risposta di Sallusti è questa. Penso che sia tutta propaganda. Io tendo ad escludere che Salvini voglia portare questa situazione all'estremo fino ad arrivare a lasciare il governo, presiduto da Draghi. Anche perché tra poche settimane potrebbe anche farlo, ma non servirebbe a nulla. Perché potrebbe farlo? Perché finisce l'incarico di Draghi. Come finisce, voi direte? Eh sì, consegna il recovery plan, il recovery plan è fatto, consegnato, poi arriveranno i soldi con dei progetti che sono già lì. Bisogna solo leggere e seguire quello che c'è scritto nel recovery plan. Basta. Draghi sta facendo le aperture dei grandi cantieri, quindi si avvieranno i grandi cantieri. La struttura vaccinale impostata dal generale Figliuolo è lì. I vaccini arrivano, non arrivano, non è propriamente un problema del governo in quanto vengono comprati dall'Unione Europea. Fra qualche settimana il ruolo di Draghi potrebbe essersi esaurito. Potrebbe essersi esaurito. E così, Sallusti dice, potrebbe anche Salvini andare via dal governo. Ma a che cosa serve? Perché si entra a luglio, siamo quasi a maggio, tutto maggio, tutto giugno, tra 67 giorni si entra nel semestre bianco. Quindi parliamo di dieci settimane, beh, non lo so, più o meno. Si entra nel semestre bianco. Semestre bianco non è per elettrodomestici del bianco o il vestito da sposa. Il semestre bianco che cos'è? È quei sei mesi prima dell'elezione del capo dello Stato. La legge dice che nei sei mesi prima dell'elezione del capo dello Stato non si può andare a votare. Il governo non può cadere. Il governo non può cadere. Possono fare le bizze, possono fare le capriole nel CDM, possono saltare sui tavoli, fare quello che vogliono, ma il governo non può cadere. Salvini può dire non voto più niente. La maggioranza può non esistere più, ma non può cadere il governo. Quindi possono combinarne di tutti i colori, ma non può succedere niente. Questo è quello che sta dicendo Sallusti. E la Gruber è rimasta come dire, ah, allora dici che Salvini fa tutto. Non l'ha detto, ma no, come dire? Ah, allora Sallusti, giornalista di centrodestra, uno dei difensori di quell'area politica, sta dicendo che Salvini sta facendo tutto per propaganda. Che lo fa, tira la corda, ma si ferma al limite perché sa perfettamente che è fatto per l'elettorato. L'elettorato che, un po' alla volta, sta traslocando nel partito di Giorgia Meloni. Sallusti ha aggiunto un suo giudizio personale sulla decisione della Lega di non votare il decreto. Dice, a me non piace quando un partito di governo si dimostra inaffidabile. La sinistra voleva tenere chiuso, la destra voleva riepire tutto, Draghi ha trovato un punto di sintesi. Perché parla, Sallusti, di inaffidabile? Nel senso che, se tu il giorno prima dici tutte le regioni sono d'accordo, siamo tutti d'accordo, i comuni, i ministri, i capi politici, c'è il decreto riaperture e il giorno dopo salta fuori il presidente delle regioni, Federica, e il capo politico della Lega che dicono no, 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 quell'accordo non va bene, riscriviamo tutto, accorciamo, spostiamo il coprifuoco alle 23. Questo dice Sallusti, a me non piace quando un partito di governo si dimostra inaffidabile. Dall'altra parte abbiamo Giorgia Meloni con le sue idee granitiche, dice le sue cose e le mantiene, quindi da una parte Giorgia Meloni si fa vedere affidabile. Giorgia Meloni non cambia idea la mattina e il pomeriggio dice un'altra cosa e la sera sta pensando a tutt'altro. No, è quello che la coerenza in politica come nella vita è importante. Attenzione, non coerenza ottusa, dice io dico questo e basta, ormai l'ho detto. No, si può cambiare idea se cambia il contesto, però la linea deve essere quella. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti al prossimo video.